Martedì 5 dicembre, sciopero di 24 ore dei dirigenti medici di Anao Assomed. Buongiorno, Raffaele Aloi, il segretario regionale Ligure di Anao Assomed. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lo sciopero lo avevamo già annunciato proprio qui a Primo Canale, grazie a lei, di 24 ore della vostra categoria, dei medici dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale. Quali sono le motivazioni dello sciopero? Le motivazioni sono un contratto che ovviamente non sta prendendo il volo, però la cosa che vorrei dire è un po' diversa da tutto quello che si dirà oggi, è che non è uno sciopero fatto da medici e infermieri in nome per conto della nostra attività, perché io ho 53 anni, 15 anni ho che croce, e come me tanti potrò godere se io vorrà della pensione. Lo si fa veramente molto di più per quello che è il futuro della sanità per i nostri figli, siamo tutti genitori, figli, fratelli, insomma abbiamo delle famiglie alle spalle che con gli orari che sono stati fatti durante il Covid ovviamente tanti di noi, soprattutto chi era in prima linea si è trovato a dover difendere anche quel minuto prezioso da poter passare con le proprie famiglie e dopo il Covid tutto ci si aspettava tranne che questo tipo di trattamento. L'appello è fatto allo Stato perché aiuti le regioni a poter assumere, io ho un dialogo costante con la regione Liguria, veramente costante e le difficoltà che ha la regione Liguria come credo tante altre è proprio questo tetto di spesa che non tende ad essere superato e quindi bisogna fare miracoli per avere medici nelle corsie, per avere infermieri delle corsie. hanno fatto questa manovra sulla pensione che ha dato ovviamente libero sfogo a quelli che potevano andarsene prima di andarsene anche con 3-4 mesi di anticipo per paura poi di poter perdere qualche cosa su una pensione, questa è una cosa che secondo me è gravissima. Quindi è una mobilizzazione che si fa a livello nazionale che deve essere fatta perché forse potrebbe essere veramente l'ultima possibilità che abbiamo e dobbiamo far capire ai cittadini che noi la benegrazione l'abbiamo dimostrata e che tutti i giorni quotidianamente cerchiamo di superare le difficoltà, i turni e quant'altro, ma adesso è venuto il tempo che lo Stato metta veramente mano non tanto al portafoglio e basta quanto alla coscienza nazionale per poter affrontare questa situazione che sta veramente precipitando in un baratro che nei prossimi anni potrebbe essere veramente troppo tardi per metterla a posto. Leggo dalla locandina del vostro sciopero non è sorridito morire di lavoro, ammalarsi di lavoro, cedere tempo di vita per il lavoro se la sanità è solo un costo su cui risparmiare. Questo è un altro tema molto forte che portate quest'oggi in piazza per appunto quelle piazze italiane che hanno organizzato delle manifestazioni. Beh sì, perché in ogni caso se ne viene da un periodo, chiamiamolo di guerra contro un virus che ha esacerbato anche gli animi, ha stancato gli animi e nel momento in cui una persona, io mi metto nei panni di un paziente che arriva a un pronto soccorso e si ritrova con una carenza di posti letto, una carenza di medici, una carenza di infermieri e da una parte il cittadino si arrabbia, dall'altra parte i medici e l'infermieri non riescono a sostenere tutto questo tipo di attività che un tempo era fatta con tre o quattro colleghi in più magari in un pronto soccorso e oggi ci si ritrova sempre di meno. Tanti se ne sono andati dal servizio sanitario nazionale al privato. Chi può, l'abbiamo ribadito più volte, va all'estero. Abbiamo perso un sacco di giovani, siamo considerati tra i migliori medici al mondo, abbiamo una preparazione che comunque ci ha sempre contraddistinto e non è un caso se tanti di noi poi all'estero fanno delle carriere favolose o si trovano bene, ma io ne conosco di amici che sono all'estero anche negli Stati Uniti e loro tornerebbero in Italia per le famiglie, per la qualità della vita, ma diventa molto molto difficile se le prospettive sono queste. Le chiedo dottora, l'ho in chiusura nel ricordare appunto lo sciopero di 24 ore e naturalmente la garanzia dei servizi di emergenza urgenza che rimangono garantiti in tutti gli ospedali nelle asole della nostra regione. Quanti sono i medici di Anao Assomed che sono coinvolti quest'oggi nello stop di 24 ore? Allora, un conto esatto non glielo saprei assolutamente dire perché poi all'ultimo minuto magari ci sono quelli che hanno l'impellenza dell'istante prima, però le garantisco che sono tanti, tantissimi. È ovvio, e ho fatto un appello a tutti, che va garantito il Servizio Sanitario Nazionale a tutti perché prima di tutti noi siamo dei medici, quindi teniamo in primis la cura della persona, pertanto vanno fatte quelle manifestazioni laddove è stato trovato un accordo per poter garantire ogni servizio ai cittadini. Noi non vogliamo ovviamente andare a dare delle problematiche ulteriori ai cittadini che già ne hanno parecchie, quindi il primo movens è garantire quello che va garantito perché prima di tutto l'etica, la professione, abbiamo fatto un giuramento che è quello di Ippocrate che ci deve contraddistinguere anche in queste fasi e poi tutti quelli che possono scioperare sciopereranno sperando che il governo veramente inizi a capire che la situazione è davvero drammatica.